Guardi, ci siamo sentiti, ci siamo anche aggiornati sui dati assolutamente positivi che stavamo acquisendo, però vorrei dire, non l'avete visto presente nelle immagini televisive, nei passaggi televisivi o nell'esposizione diretta, ma assolutamente è stato invece presente per quanto riguarda, l'ho già ripetuto, l'ho già detto, per quanto riguarda l'elaborazione del programma, ci ha dato molti suggerimenti che abbiamo raccolto e poi anche durante la campagna elettorale ci siamo sentiti spesso, pressoché quotidianamente, e insieme ci siamo scambiati tante valutazioni, lui sapete è un grande esperto anche di comunicazione, ha tanta esperienza e quindi assolutamente l'abbiamo sentito tutti vicino, lo ringraziamo, è assolutamente partecipe di questo percorso, di questo progetto, anche lui valuta molto positivamente il risultato e anzi la sua domanda mi permette di ringraziare tutti quanti, non solo Beppe Grillo, ma tutti coloro che hanno lavorato con grande cuore, con grande passione, con grande determinazione per realizzare questa campagna elettorale. Parlo di tutti i nostri simpatizzanti, tutti gli attivisti, gli iscritti, dei candidati, dello staff, che ovviamente non posso nominare uno per uno, ma insomma hanno fatto un lavoro notevole, insomma se noi, ripeto, la misura di questo nostro successo è dato dalle proiezioni iniziali, insomma obiettivamente lo possiamo dire, tutti ci davate a singola cifra e tutti ci davate percentuali diciamo bassissime, chi il 6, chi il 7, qualcuno l'8%, questo risultato raggiunto significa un ribaltamento completo delle previsioni iniziali, quindi siamo partiti contro tutte e contro tutti, però i cittadini hanno compreso che il movimento, ecco mi sembra di sintetizzare questo voto e l'appoggio ai nostri confronti. I cittadini vogliono un Movimento 5 Stelle, vogliono che il Movimento 5 Stelle e questa forza politica sia rappresentata largamente in Parlamento, vogliono che il Movimento 5 Stelle continui le sue battaglie con grande determinazione e con grande coraggio e evidentemente condividono la nostra sincera passione per il bene comune.